sempre in posti comodi qui c'è un altro bascens e sotto cosa c'è? vediamo bene il buco e poi serviamo il micelio si inizia siamo a fine buttata almeno sono ancora sani un po' tempestati dal vento sono arrivato tardi questo è ancora sano si 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 qua si freggia ancora sano questi sono un po' malandati ragazzi c'è il cimitero dei fondi un altro lì questo lo lasciamo lì a riposare questo è l'unico che metterò a seccare perché sono sani avanti qua bisogna andare a muoversi perché si fatica a stare in piedi abbiamo migliorato ragazzi appena 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 eh si eh un piccolo miglioramento ce ne vorrebbe questo è veramente spettacolare un po' in salita un po' in discesa spostiamo il sasso anche qui il gambone mi sa che sia bello lungo eh si ma questo lo prendiamo questo direi che va bene bello duro e sano ci sono i brutti ci sono i belli ci sono i medi c'è un po' di tutto questo va bene gamba lunga mi piacciono più con la gamba grassa però va bene anche questi ragazzi sono arrivato alla fine oggi è proprio un cimitero dei funghi questo lo lasciamo nel bosco ovviamente questo è l'unico decente lo prendiamo ancora bellino con questo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video ciao a tutti